Noi stiamo bonificando tutto il territorio, lo stiamo bonificando, quindi invitiamo i cittadini a seguire la procedura corretta, chiamare il numero verde per ritirare gli imbombrati. Noi abbiamo già acquistato delle trappole, sarebbero delle telecamere che noi dispostiamo su tutto il territorio. Sicuramente le prime volte ci sarà tolleranza, ma poi saranno fatte delle multe pesanti. Per chi abbandona rifiuti, vabbè che i cassonetti non ci saranno più, ma chi abbandona rifiuti lungo il territorio comunale saranno multate con multe pesanti.